Buongiorno FTA Online, tentativo di rimbalzo questa attima per la borsa, abbiamo il Fuzzimib infatti che sale dell'1% circa, siamo in questo momento intorno ai 21.570 punti, il tentativo di rimbalzo ovviamente è interessante non è però risolutivo, se andiamo a guardare lo spread di cui si parla molto in questi giorni vediamo che la candela giornaliera odierna per il momento è all'interno di quella disegnata nella seduta di ieri, quindi siamo in una situazione di inside day ovvero sia il movimento di recupero che c'è stato nelle ultime ore potrebbe essere solo una pausa del trend rialzista solo la violazione della base della candela di ieri, quindi solo se avessimo discesa di sotto di area 2.40-2.50 farebbe pensare a un vero e proprio rientro delle tensioni. Oggi come detto ci occupiamo dei titoli principali dei piazza affari, prima di passare però ai single titoli voglio guardare con voi il grafico a punto e figura dell'indice Fuzzimib, il punto e figura è un tipo di grafico che non viene più molto utilizzato, a me comunque piace ancora molto molto semplicemente si tratta di una rappresentazione grafica dove quando i prezzi salgono di una determinata porzione che viene definita a priori, in questo caso di 250 punti, viene disegnata una X e quindi le colonne di X corrispondono a fasi crescenti di 250 punti successivi, la fase invece di cerchietti rossi corrisponde a movimenti di ribasso altrettanto della stessa ampiezza, quindi sempre di 250 punti. Nel recente passato abbiamo avuto quindi una impennata rialzista che ci aveva portato a toccare e qui si vede molto bene il massimo che le quotazioni avevano toccato nell'ottobre 2009, quindi test di una importante esistenza e fase successiva di ribasso. La cosa importante guardando il grafico a punto e figura, oltre al fatto che viene ridotto di molto il rumore, quindi le oscillazioni che tendono a confondere un po' le idee, è il fatto che con questa riduzione della volatilità si vengono a creare delle fasi laterali come quelle che abbiamo vissuto recentemente che servono molto bene come misura sulla quale andare a calcolare i possibili obiettivi. Il metodo di calcolo di obiettivi nelle fasi laterali è molto semplice, si parla di conto orizzontale, si va banalmente a contare il numero delle colonne che hanno disegnato la fase laterale, in questo caso le colonne sono se non sbaglio 14, si moltiplica il numero delle colonne per il box size, quindi in questo caso 250 punti e per il fattore di reversa che nel grafico utilizzato è di 3, quindi questo valore mi fornisce un target nel momento in cui la fase laterale viene abbandonata in un senso o in un altro. L'obiettivo è distante quindi 10.500 punti circa dal centro della fase laterale, la fase laterale è con un baricentro intorno ai 22.500 punti, quindi abbiamo 22.500 meno 10.500 che ci dà un target a 12.000 punti, ora capite bene che parlare di questi valori in questo momento non ha probabilmente molto senso, ma l'utilizzo del punto di figura ci dice che il movimento che potrebbe essere iniziato con la violazione della base del trading range non è certo un movimento da prendere sotto gamba, è evidente che parlare di un ritorno a 12.000 punti vorrebbe dire vedere le quotazioni nuovamente sui minimi del luglio del 2012, quindi prezzi che il mercato ha fatto anche tutto sommato recentemente, ma che ripeto appaiono molto lontani rispetto a voi attuali, attenzione però perché fino a che a questo punto rimarremo al di sotto alla resistenza offerta dai massimi in ottobre 2009, uno scenario di forte ribasso prolungato nel tempo non si può escludere. Ovviamente prima di parlare di certi livelli obiettivo saranno necessarie molte conferme e quindi vedremo la situazione nel suo evolversi nel prossimo futuro. Il momento di rimbalzo di oggi scaturisce dalla forte fase di ripiegamento che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, come ho detto oggi cerchiamo di concentrarci su quelli che sono i titoli principali di piazza affari, vediamo quelli che abbiamo scelto sono Intesa San Paolo, Unicredit, Enel e Fiat Chrysler, il controvalore scambiato nella seduta ieri, questo qui è quello per ciascun titolo, la somma dei 5 ci dà un totale dei volumi scambiati del 47% circa rispetto all'intero mercato, quindi è evidente che dove vanno questi 5 titoli va al mercato, in questa fase a parte Fiat Chrysler che ha un saldo nettamente positivo da inizio anno e anche Eni è ancora positiva, gli altri titoli due bancari e Enel sono invece in caldo del 10% circa. La variazione media di questi 5 titoli da inizio anno è negativa dello 0,08%, quindi sostanzialmente chi avesse avuto in questi titoli in portafoglio da inizio anno in questo momento sarebbe in pari, invece l'indice rispetto alla chiusura dell'ultima seduta del 2017 ha un saldo negativo del 2,30%, comunque a conferma del fatto che l'andamento di questi 5 titoli rappresenta bene o male in maniera abbastanza efficace l'andamento dell'intero mercato. Dicevamo la reazione odierna è evidentemente un rimbalzo dovuto all'ipervenduto che si è venuto a creare, se andiamo a vedere l'RSI a 14 sedute sia su Intesa San Paolo che su Unicredit, quindi un indicatore che viene utilizzato per avere la percezione dell'ipercomprato e dell'ipervenduto, vediamo ad esempio nel caso di Intesa molto penalizzato anche nelle sedute ieri, oggi con un bel rimbalzo, vediamo che per ritrovare un RSI a 14 sedute così basso come lo abbiamo visto ieri, bisogna ritornare molto indietro nel tempo, si era avvicinato agli stessi valori del 12% a maggio del 2010, notiamo che in corrispondenza di quel ribasso a maggio del 2010 c'era stato poi un momento di lateralità, quindi c'era stata una fase di recupero dopo il forte ribasso che abbiamo visto dai massimi all'inizio del 2010, ma successivamente c'era stata una nuova fase negativa, questo per dire che il fatto che il titolo possa rimbalzare ovviamente è interessante in una logica di breve termine, ma a questo punto per parlare di una ripresa duratura delle quotazioni sarà necessario avere molta pazienza, la stessa cosa la possiamo verificare anche su Unicredit, anche in questo caso se andiamo a ricercare i valori in passato del RSI che ieri aveva toccato il 20% circa su una scala che va fino al 100%, bisogna ritornare indietro all'inizio del 2016, anche in quel caso la forte situazione di ipervenduto che c'era stata sull'RSI aveva avuto come movimento successivo un rimbalzo di una certa entità, ma successivamente ancora una volta c'era stato un ulteriore prolungato ribasso, quindi evidentemente quando il mercato scende così in ipervenduto con questa violenza significa che c'è una tendenza forte alle spalle, il raggiungimento dell'ipervenduto è un segnale che la velocità di discesa è forse eccessiva rispetto a quello che il mercato è disposto a sopportare, questo non significa però che il raggiungimento dell'ipervenduto corrisponda a un recupero del trend positivo. Su Unicredit peraltro abbiamo la presenza di questo ampio doppio massimo, figura che avevamo già segnalato anche nei recenti interventi, il target del doppio massimo calcolato in base alla proiezione della sua ampiezza dal punto di rottura si colloca intorno ai 12,50-12,60 Euro. In caso di raggiungimento di quei livelli il titolo andrebbe ad interessare anche l'area del 61,8% di retrasment della salita dei massimi del luglio del 2016. Quindi nel caso di Unicredit la cosa più probabile che si può ipotizzare per il breve termine è un return move a toccare dal basso la base della figura più bassista, quindi la possibilità di tornare a vedere a limite anche area 15,50. Sarà poi interessante vedere in caso di raggiungimento di quei livelli quale sarà il comportamento dei prezzi, ma è molto probabile che in caso di rimbalzo in quell'area si vada poi nuovamente a realizzare un'ulteriore fase calante verso gli obiettivi che abbiamo indicato, quindi verso almeno area 12,50. Situazione del tutto simile anche per Intesa San Paolo, nel caso di Intesa la figura ribassista era già stata completata precedentemente rispetto a Unicredit e anche di portata minore perché ha avuto una lunghezza temporale più ridotta, questo è evidente doppio massimo. In questo caso il recupero della base doppio massimo comporterebbe un rimbalzo più consistente visto che Intesa nelle ultime sedute ha avuto una fase calante più accentuata, è possibile che le quotazioni in caso di ripresa non riescano nemmeno ad arrivare fino in area 2,90 ma si fermino eventualmente già in area 2,70 dove troviamo la presenza di questo bel martello che disegnato il 3 di gennaio aveva fornito lo spunto per il rialzo che era poi culminato il 7 di febbraio a 3,23, quindi anche nel caso di Intesa probabilità di rimbalzo o a 2,70 o a 2,90 ma attenzione perché la fase calante potrebbe non essere ancora terminata, per il momento siamo arrivati esattamente sul 50% retracement della precedente fase crescente, quindi un livello di supporto molto importante, ricordiamo però come sempre che le correzioni sono destinate a svilupparsi almeno in 3 segmenti, potrebbe anche essere quindi che la fase ribassista vista dal massimo di febbraio sia solo il primo elemento di una correzione più complessa dopo il ritorno in area 2,80 o 2,70 o 2,90 abbiamo detto, potrebbe esserci un ulteriore affondo verso 2,10, 2,15. Passiamo adesso a Fiat Chrysler che è l'unico dei titoli che conserva una impostazione grafica positiva nonostante i recenti rovesci di fortuna, del resto se andiamo a guardare il nostro mega trader, il sistema di analisi tecnica che abbiamo sviluppato in collaborazione con Trend Online vediamo che dei 5 titoli che abbiamo elencato solo Fiat Chrysler conserva una posizione long assunta peraltro recentemente il 22 di maggio. Il titolo è l'unico come vediamo nella colonna del rating che ha un rating superiore al minimo che è 1, tutti gli altri sono in una situazione di rating 1 come vedete questa freccetta rossa indica il fatto che proveniamo da una valutazione superiore nel caso di Fiat Chrysler invece siamo con un rating 2, c'è stato recentemente il passaggio dal 1 al 2, quindi un rafforzamento della tendenza e quindi l'unico titolo che anche da un punto di vista di valutazione sintetica della condizione del trend conserva un potenziale rialzista, del resto nel caso di Fiat Chrysler c'è stato un ribasso ma questo non è stato così esteso la media mobile a 200 giorni che è stata violata per gli altri titoli, nel caso di Fiat Chrysler funziona ancora da supporto a 16,30 Euro fino a che rimarremo al di sopra di quei livelli quindi sarà possibile continuare a considerare la fase che i prezzi hanno disegnato nel corso delle ultime settimane compresa all'interno di questo piccolo canale ribassista un flag, ovvero sia una figura di continuazione del precedente trend crescente, quello che è partito dai minimi di inizio marzo. Il proseguimento del rialzo ovviamente verrebbe segnalato, la ripresa del rialzo verrebbe segnalata dalla rottura di questa linea tendenza che passa intorno ai 19,70 Euro con conferme poi oltre 20,20 che sono i massimi di gennaio. In caso di superamento di quei livelli avremo la possibilità di assistere ad un proseguimento di rialzo con obiettivi che sono dati dal lato alto del canale crescente che contiene l'andamento dei prezzi dai minimi di agosto dello scorso anno, quindi un primo obiettivo collocato intorno ai 22,30 Euro. Ovviamente la violazione della base del canale che abbiamo indicato essere un flag e della linea di tendenza che sale dai minimi dello scorso agosto sarebbero invece un segnale di resa anche da parte di FCA, quindi di scesa di sotto i 17,50 farebbero temere una ulteriore accelerazione negativa anche in questo caso. Veniamo adesso a Enel, su Enel nella seduta ieri c'è stato un ribasso deciso ma anche un rimbalzo in chiuso della giornata, come vedete c'è stato un picco di volumi che ha toccato dei valori di scambi veramente molto elevati, siamo in prossimità di un supporto rilevante, vedete le quotazioni sono arrivate con i minimi di ieri a toccare quelli del 5 di marzo a 4,55 Euro circa, evidentemente anche in questo caso siamo in una situazione di netto ipervenduto, il ribasso è stato così violento che ha comportato uno sconfinamento dell'RSI su valori che anche in questo caso non si vedevano veramente da molto tempo, siamo infatti scesi su prezzi simili a quelli che erano stati toccati a giugno del 2013, anche in quel caso vedete lo sconfinamento in ipervenduto non era stato necessariamente seguito da una immediata fase di recupero, infatti dopo la fase laterale che si era sviluppata in reazione al raggiungimento dell'ipervenduto il titolo aveva poi toccato un nuovo minimo e successivamente poi avevamo avuto invece una ripresa duratura, quindi ancora una volta attenzione a non scambiare il raggiungimento di certi valori da parte degli indicatori come una promessa di inversione, si tratta invece di una promessa di un rimbalzo e in questo caso il rimbalzo potrebbe ovviamente andare a cercare di correggere una porzione della recente fase ribassista, obiettivi tra il 4,90 e il 4,95 penso che siano raggiungibili, la media 100 giorni funziona da bisettrice per la fase laterale degli ultimi mesi, passa intorno ai 5 Euro, solo se dovessero salire di sopra di quei livelli, avremo la possibilità di estensione del rialzo almeno fino a ricoprire il gap ribassista del 10 di maggio che si colloca esattamente a 5 Euro e 20. Prendiamo infine a Eni, su Eni pesa oltre che la situazione di mercato attuale anche il ritracciamento del prezzo del greggio, tutto sommato però il movimento di ribasso che c'è stato in ultime sedute per quanto veloce e violento non ha comportato danni particolarmente rilevanti, vedete infatti come le quotazioni si siano limitate a ritracciare esattamente il 61,8% della precedente fase rialzista, quindi per adesso il ribasso di Eni si mantiene nell'ambito di una correzione, ancora una volta sottolineiamo il fatto che difficilmente una fase correttiva si limita a una rasoiata così decisa come quella che abbiamo visto per poi lasciare spazio alla ripresa dell'up trend, più probabilmente questo è solo il primo elemento di una terna correttiva, ma in ogni caso fino a che staremo di sopra dei 14,60 Euro si potrà scommettere almeno per quello che riguarda il breve termine sul titolo, è evidente la presenza di questo gap ribassista lasciato il 21 maggio a 16,43 Euro, un target che diventerebbe raggiungibile in caso di superamento di 15,50 Euro, sotto 14,60 Euro invece attenzione perché si potrebbe completare il ritracciamento di tutta la fase precedente di crescita e quindi gli obiettivi potrebbero scendere fino ai 13 Euro e 20. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata, vedo che ci sono delle domande, direi che però data la lunghezza dell'intervento odierno, Elena lo guarderemo insieme domani e continueremo a seguire quindi la situazione del mercato con spunti che spero che siano per voi interessanti, vi auguro quindi buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie. 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 Grazie.